Dopo anni di esperienza nel servizio di stampa e il bustamento delle bollette, Mercurio Service presenta l'innovativo cassetto tributario, un servizio online che rivoluziona la gestione dei tributi in modo semplice e veloce, a beneficio del lente e del contribuente. Con il cassetto tributario, l'ente pubblico offre ai contribuenti la possibilità di pagare i propri tributi senza attese e lunghe file, direttamente da casa, con un semplice clic. La procedura è semplicissima. Basta collegarsi al portale web fatto su misura per lente, registrarsi ed effettuare il login per aprire il proprio cassetto e poter consultare l'archivio dei pagamenti dei propri tributi tutti i giorni, 24 ore su 24. Pagare direttamente con carta di credito o con addebito sul proprio conto corrente dell'F24. Ricevere le bollette sulla e-mail o altre comunicazioni dal lente tramite SMS, e-mail o PEC. Comunicare variazioni di indirizzo. Stampare i documenti conformi agli originali facilmente da casa. I vantaggi del cassetto tributario sono innegabili anche per lente, che dispone di un vero e proprio back-office, un nuovo strumento di gestione per controllare i pagamenti di ogni utente, ridurre i costi di spedizione di bollette, dell'attività di sportello, i tempi di notifica, di sollecito, di riscossione, garantendo un servizio immediato e affidabile. Mercurio Service fornisce tutto il supporto necessario per l'attivazione e gestione del servizio, compresa la formazione del personale front office. Oltre al cassetto tributario, Mercurio Service vanta altre innovazioni. Il servizio Repository, un archivio online di tutte le richieste di pagamento spedite all'utente, sempre consultabili e ristampabili dagli operatori di front office. Con il servizio di bonifica e indirizzi, Mercurio Service aggiorna il database dell'ente, correggendo quelli errati e rispedendo la posta non recapitata. Attraverso il ControlPay permette di effettuare controlli puntuali sui pagamenti degli utenti, procedere ai solleciti verso i morosi, aggiornare il proprio sistema contabile gestionale importando il database riconciliato fornito da Mercurio Service. Tanti servizi in uno, la rivoluzione è partita e mai come oggi, ente e utenti vanno al passo con i tempi. Mercurio Service, la gestione dei tributi, a portata di click.